La stagione degli Etnopatos riparte da Tropea o meglio come piace a noi da Trupia con questo evento di solidarietà organizzato dal Circolo Comunale Abis di Tropea. Ci troviamo in Piazza Veneto, un luogo suggestivo che va da sé. Ripartiamo proprio da qua. Prevediamo una magnifica serata con tantissima gente, soprattutto perché l'evento è patrocinato da sette comuni in collaborazione con due proloco. È molto importante l'attenzione delle pubbliche amministrazioni e delle associazioni in un evento che riguarda il territorio, proprio perché noi come gruppo ci occupiamo di sensibilizzare la gente, di ricercare tutto quello che appartiene alla tradizione locale. L'abbiamo sempre fatto e soprattutto lo rafforziamo quest'anno che tra l'altro il gruppo Etnopatos compie la sua decima stagione di attività e riparte appunto da un luogo d'eccellenza. Grazie. 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 Grazie.